Ciao ragazzi, eccoci tornati in un nuovo video, in questo caso video di pronostici della trentatresima giornata ma ovviamente prima di cominciare mandiamo la nostra sigla E allora eccoci tornati con un nuovo video, ormai stiamo entrando perché domani è venerdì ma ci saranno già le partite di Serie A con le milanesi e quindi ci addentriamo appunto nella trentatresima giornata di Serie A come detto poco fa, a questo punto la regia ovviamente se ci fa il favore di mandarci appunto come sempre il video consueto del weekend eccolo qua, allora come vi dicevo si inizia domani alle ore diciotto con Spezia Inter Spezia Inter ragazzi io non voglio essere ripetitivo ma è da un mese che ve lo dico, sono tutte finali saranno tutte finali fino alla fine ma ovviamente dobbiamo dare dei pronostici e pronostici che appunto come di consueto nel caso nostro come sempre appunto daremo da regolamento un solo risultato ma voi se volete ne potrete dare anche un paio allora da Spezia Inter appunto di domani mi aspetto qualcosina ovviamente da tifoso del Napoli mi aspetto qualcos'ha lo Spezia ma io credo che alla fine da questa partita uscirà un 2 la sera poi ci sarà Milan Genova anche qua ragazzi io da tifoso del Napoli ma sempre in modo prettamente sportivo è giusto ricordarlo questo spero in qualcosina del Genova ma comunque credo che da questa partita uscirà un 1 poi invece sabato prima partita delle 12 e 30 Cagliari Sassuolo bella partita Cagliari non è uno stadio semplice però io penso che tutto sommato per la scia positiva che il Sassuolo sta avendo credo che comunque uscirà un 2 anche qua Udinese Empoli è questa qua non è facile questa qua non è semplice 14 e 30 sarei tentato per un 1 perché l'Udinese ultimamente sta facendo bene però probabilmente l'Empoli non se ne starà così a guardare quindi su questa opterei per una X avrei fatto 1 X però dato che noi diamo un solo risultato mettiamo X poi alle 14 e 30 sempre di sabato Samporia Salernitana qua con tutto il rispetto e diciamo voler bene ovviamente l'altra squadra campana io credo che la Samp probabilmente riuscirà a strappare la vittoria in casa quindi qua lascerei uno idem per Fiorentina Venezia per quanto il Venezia come la Salernitana stesso discorso stanno comunque provando a fare qualcosa per raccimolare qualche punticino io comunque credo che la Fiorentina in casa vinca abbastanza tranquillamente salvo ovviamente imprevisti particolari sabato poi se non sbaglio questo è 18 e 30 o no 16 e 30 credo c'è Juve Bologna anche qua per quanto il Bologna possa fare una gran partita credo che alla fine la Juve a Torino vinca non magari proprio perfettamente proprio in tranquillità però io credo che alla fine vincerà quindi mettiamo uno Lazio Torino sabato sera e questa qua pure sarà una bella partita sono indeciso sul mettere uno X perché il Torino è tosto è la squadra tosto il Torino però credo che alla fine uscirà un uno per la Lazio poi lunedì c'è la nostra partita e gioca anche l'Atalanta in realtà Atalanta Verona altra bella partita sul Napoli Roma ragazzi è ovvio che sarà una partita difficile perché il Napoli esce da una arrivata una sconfitta in casa la Roma sta attraversando un periodo diciamo abbastanza buono ancora con qualche incertezza ma comunque pare essere uscita dal grosso diciamo del proprio dal pessimismo generale che c'era periodi nei periodi scorsi però il Napoli ragazzi deve fare risultato gioca ancora in casa io non credo ad altri risultati fuorché l'uno quindi lasciamo uno Napoli ovviamente e poi Atalanta Verona anche qua stesso discorso fatto per il Napoli Atalanta non può continuare comunque a fare passi falsi nonostante il Verona non credo regali la partita ma io penso che l'Atalanta Bergamo esca con un uno quindi ragazzi detto questo fateci sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate dei pronostici che abbiamo fatto quindi lasciate nei commenti i vostri pronostici in modo tale poi da vederli insieme quando avremo tutti i risultati disponibili lasciate mi raccomando un like o soprattutto un'iscrizione al canale supportate il nostro canale fino alla fine dobbiamo arrivare a 1000 iscritti mi raccomando mettetecela tutta portate tutti gli amici i parenti che conoscete detto questo buon proseguo di giornata e ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi